Roma, 31 gennaio 1506 Padre reverendissimo, De casi mia di qua io ne farei bene, se mi amarmi venissimo, ma in questa parte mi pare avere grandissima disgrazia. S'abbatté a venirne più giorni fa una barca che trasportava marmo, che ebbe grandissima avventura a non capitare male, perché era contratempo. Eppure do parole al Papa e tengono in buona speranza, perché non si crucimeco, sperando che il tempo s'acconci che io cominci presto a lavorare. Michelangelo Firenze, 2 maggio 1506 Giuliano E intenda la sua santità com'io sono disposto, più che io fossi mai, a seguire l'opera. E se quella vuole fare la sepoltura a ogni modo, non gli debba dare noia dove io me la faccia, dove a quella piacerà e sia cosa bella, come io ho promesso, che son certo, se si fa, non ha la parcosa a tutto il mondo. Per servire sua santità sendio a Carrara per mia faccende, cioè per marmi per condurre a Roma per la sepoltura di Papa Giulio. Di poi mandommi là Papa Leone Ducati Mille. Io ho tolto a risuscitare morti, a voler domesticare questi monti e a metter l'arte in questo paese. Ducati Mille. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. Un'altra, fece è stato colpito da una di queste molettine che c'è dentro, lo stesso. e se uno è lontano può farsi male una mano, un braccio. e quando partono sono come colpi di fucile, di arma da fuoco... Era molto, ma molto pericoloso, veramente. Perché io ho abitato 25 anni giù alla fontana per andare su alle cave. Allora tenevamo in fondo al corridoio come ora lì in fondo. una bottiglia di cognac e alcol per medicare la gente c'erano i lizzatori a quel tempo a volte scappava la fune posso muovermi e questa fune raccoglieva tutti gli uomini signora mille volte mille volte come una io ho dovuto levarmi la camicetta e asciugare il sangue alla testa e medicare questi uomini venivano giù li portavano giù con noi ci dicevamo la barella a quel tempo la lettega a bare e insomma era una cosa molto brutta brutta perché in un giorno ce ne sono rimasti anche tre sui lizzatori alle cave poi non se ne parla pietra santa 2 aprile 1518 buon arroto se io ho chiesto al papa e al cardinale che mi diano autorità sopra questa strada l'ho fatto solo per potere comandare e farla dirizzare in quei luoghi dove sono ai marmi migliori che non li conosce ognuno la strada si può dire che sia finita perché resta a fare poco cioè resta a tagliare certi sassi l'una è dove sbocca la strada che esce dal fiume nella strada vecchia a rio magno però questo è che sabato mattina io messi a fare collare una colonna con grande ordine si ruppe uno anello dell'ulivella che era la colonna e la colonna se ne andò nel fiume in cento pezzi de marmi io ho la colonna cavata giù nel canale e presso alla strada a 50 braccia a salvamento e ci si fatto male qualcuno nel collarla e uno ci si è dinoccolato e morto subito e io ci sono stato per mettere la vita quando si facevano male alle cave suonavano le sirene se c'era l'infortunio non grave suonava due volte e quando c'era l'infortunio molto grave tre volte ma faceva di quei fischi che uuuh ma forte forte che allora camminava anche chi non doveva gliel'ho detto il mio bimbo era avuto cinque anni sei nemmeno camminava aveva sempre un martello in mano perché mio marito faceva il fabbro suo nonno il fabbro e il bimbo andava sempre col babbo a fare a giocare con quelle cose lì con quel martello andava giù per quella strada sembrava una trottola a vedere dove erano questi infortuni perché è un giorno si è trovato laggiù in fondo sotto la tenda rossa c'è un souvenir degno no c'è scritto irma lorenzi quel souvenir lì era cascato un blocco dalla tecchia aveva schiacciato un uomo che sarebbe il fratello di quello che c'è lì e mio figlio è arrivato lì il primo quando è venuto a casa tremava e dice ovi o no parla come diceva lui o ma ho visto tutto quell'uomo sembrava una rana schiacciato così si immagina cosa avevano di spettacolo a quel tempo i figlioli oggi se Dio il vuole quello lì non ce l'hanno signore Dio figlio del padre tu che togli i peccati del mondo affichetta di noi tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica tu che siete alla destra del padre affichetta di noi perché tu sono il santo tu solo il signore tu solo l'altissimo grazie a tutti Agosto 1518 Pietro, l'altra grotta è poco passato Rio Magno per andare a Serravezza un sasso grande che attraversa la strada l'altra è l'ultima casa di Serravezza andando verso la Corvara del resto le cose sono andate molto male una colonna era quasi bozzata trovai un pelo che me la troncava e mi è bisognato rientrare nel poggio tanto quanto le grossa basta che quello che io ho promesso lo farò a ogni modo e farò la più bella opera che si sia mai fatta in Italia se Dio me ne aiuta che si sia mai fatta in Italia e mi è finito per la prima volta a questo punto ma io non ti è finito non ti è finito mi è finito mi è finito ma io non ti è finito è un inferno da una parte però è una gioia da quell'altra perché ti porta a avere il sistema che il tuo lavoro va per tutto il mondo ecco c'è già di soddisfazione non è differente il sistema del marmo noi cavatori siamo orgogliosi di quello perché il nostro lavoro va per tutto il mondo e accetta cioè nei parisi arabi germania da per tutte le parti siamo contenti perché poi fine condizzo anche la pagina da santa lucia che panorama tutta quanta vedi la città sembra il volto bello della mamma e ragazze singoli e beltà fosso la lavenza e la marina del tireno spiaggia ideal fanno da contorno alla vetrina del suo marmo bianco mondial carara la rocca forte c'è il marmo bianco stacca dal fianco della montagna rara il cavatore col suo sudore scoppia la mina sulla cima ed è giocondo che va per mondo il suo lavoro carara infatti i primi cavatori erano tipiche per fare a castotti erano l'uomo più forti si sentivano sempre bracci di ferro tutta una cosa diciamo una lotta sulla forza perché poi infatti era molta fatica alzavano dei grandi pesi se pensi che il martino pesava 100 kg 120 kg il rotolo diciamo del filo edico idale pesava 100 120 kg 130 kg lo portavano ancora come le liste che ho detto prima 150 kg se chi capirai erano tutti robusti tutti nervi erano e quando arriva nella casa che magari poi c'era specialmente il sabato e la domenica esisteva andare nelle cantine che il padrone dava la quindicina o la settimana in cantina no si trovano in una cantina e ricapirai cominciavano a buttare giù dei quartini di vino andiamo a vetare e si trovavano dopo magari a far bevuto magari facevano una scassottata pareva giorno dopo non c'erano niente cioè amici amici come prima magari facevano a cassotti occhi gonfi e via però dovrebbero avere insieme mi capisce come era il cavatore cavatore è un tipo schietto qui vediamo lavorazione delle cave di tanti anni fa e veniva usato il filo edico idale ed è un bacino grosso come si vede qui c'è una scala che addirittura sono sto diciamo preparando per dare un taglio anche qui un altro montante ce l'abbiamo qua cioè veniva dato il taglio questo per esempio era un blocco grosso già buttato in terra e veniva diciamo tagliato a pezzi e portato a misura e non c'è un blocco grosso già buttato in terra e veniva Passiamo a questa, questa qua è il momento in cui hanno fatto la mina per poter prendere da questa parte, andare dentro con il macchinario, col filo licoidale, infatti stanno passando i fili licoidale, perché si vede l'uomo che tira e questi due cogliere andavano a farlo passare e poi partivano col taglio.